L'associazione culturale Telemerito, titolare dell'impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale, denominata Telemerito, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per il giorno 31 maggio 2015. A tal fine informa altresì che, presso la propria sede, ubicata a Melito Portosalvo, Reggio Calabria, via San Leonardo 64, numero telefonico 0965 78 15 02, numero fax 0967 52 25 48, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse, concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, quali autonomamente determinate dall'associazione culturale Telemerito, ogni ulteriore circostanza o dell'evento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.